Kimberli, loro sono You Are Fit, Kimberli Mangano, Roberto Cataldi, Giovanni Vedez e Davide Alitab che si presentano il loro brano rock dal titolo Black Sky Come già detto questo è Black Sky, quindi buon ascolto Grazie 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 Meet con Black Sky, grazie ragazzi grazie a voi chi di voi è stato presente alla prima semifinale dove loro hanno passato il turno sanno anche che questi sono i più giovani partecipanti del music contest quindi io farei loro un applauso speciale per questo Kimberly resti tu con noi a chiacchierare un po' con la nostra giuria intanto comunque volevo presentare nuovamente alla chitarra Roberto Cataldi alla batteria Giovanni Velez al basso Davide Alitab e alla voce Kimberly Manner